ciao a tutti eccomi qui per un altro vlogmas dei sette è una giornata un po particolare in quanto stamattina è passato quella della lavatrice in quanto domenica mi si era letteralmente allagato il bagno perché mi si era rotto una fascetta della lavatrice ed è passato oggi stamattina e me la sono cavata con una cinquantina di euro e quindi non mi dovrebbe più succedere niente con la lavatrice ma quando ho visto il bagno allagato alle sette mesi di sera mi era venuto male in quanto mi si era come detto allagato tutto il bagno e aveva fatto una bella pozza d'acqua nel mezzo della mansarda che ho su di sopra è stato allucinante a pulirlo tutto stracci svuotare catanelle con l'acqua tutto quanto è stato non dico che mi sono partiti vari insulti anche quelle che non conoscevo ma è stato alluciante avrei aspettato in un periodo un po meno balordo perché di capitare domenica sera il giorno dopo ti deve rassare tipo alle 4 10 del mattino vedere di pulire un lago d'acqua insaponata di una lavatrice che stai facendo non è stato per niente divertente ma partiamo subito con il calendario dell'avvento partiamo con un napoli dell'aribo oggi giorno 7 trovato apriamo e troviamo per se ti arrivo poi partiamo a c'è anche il tender questo qui abbiamo giorno 7 se lo trovo sia qualcosa che non mi torna da sincero non trovo il 7 però c'è il 6 qui c'è qualcosa che non quadra nonostante può darsi che abbia aperto il numero 7 ieri e ho trovato il pinguino poi passiamo a happy moment mini mix si mi sa che ho aperto il set il set non il sai fantastico ho invertito anche i giorni fantastico sono persa e ho trovato il mini kinder bueno questo qui mi piace moltissimo con questo è tutto alla prossima ciao 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 Grazie.